questo è una cosa del genere, papà non c'è la cosa del genere il viaggio a api si chiama serie di curva, io pensavo che mi avevo si tra un tempo di sì questa è la cosa del genere è una cosa del genere che ci sia la persona che si crea Scuscio con la marmetta? Mi sta smarmettando! Tra 400 metri girate a sinistra, poi spostatevi sulla sinistra. E' un'happio verifizitato, se si si è... E' un'hoffi, se si è un'hoffi... E' un'hoffi, se si è un'hoffi... O se, questo è un'hoffi... E' un'hoffi... ...la scuscio con la marmetta... ... poi spostatevi sulla sinistra. Non vanno le macchine per scassare, se te sveicesti, te sveicesti, te sveicesti. Deci camminano da volta con le molle, tutte scassate. Tra 300 metri, spostatevi sulla sinistra, poi spostatevi sulla destra. Ah! Palermo, qui è subito. Ah, 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 ah. Spostatevi sulla sinistra, poi spostatevi sulla destra. C'è il tunnel, poi c'è il tunnel. Sulla destra, 285 metri. Tra 200 metri, spostatevi sulla destra. Spostatevi sulla destra. Spostatevi sulla destra. Spostatevi sulla destra. Spostatevi la chiamma pesarare prov будете conoscere vulgo sine Spostatevi rods Spostatevi Grazie a tutti